stop camping mio brutto cinese benvenuti signori siamo tornati con un nuovo video a casa su contest strike global office e oggi sto usando il controllo e si con te strike ciao isaac dove sei? ma sei con tutti ma? no no sono con te no non sei te questo aspetta devo trovarti dove sei? volevo ammazzarti allora ovviamente non giochiamo in competitiva perchè uno non giochiamo a tanto oh ha fatto una kill isaac ha fatto una kill hai visto? aia allora stiamo vedendo questo diario perchè se facciamo competitiva con il controllo ci aprono in due ci aprono in due questo modello camperone si distrugge una giacca di nuovo se vedi tu ma no ma io sto facendo strada gioco con il troller eh cioè signori provate a giocare voi quanto sai come cazzo di... ti insegno un trucco pruiz se uno è dietro di te premi rb ah devi ricaricare subito bot no niente lui mi ha ammazzato lo step rb rb è straconveniente rb ma che figata eeeeeee come c'è possibile? come c'è possibile? come c'è possibile? oh la pp 19 sono troppo forti isaac dobbiamo fare qualcosa aspetta quel grilletto si è bass ahia sono un po' strani i comandi stanno animus vox non mi ha fatto il culo ahia di nuovo questi qua ti vengono e ti ammazzano dai ero partito bene è una challenge questa e chi è che ha vinto col controller su battlefield ho vinto io non mi ricordo eh si ma perchè è lì proprio ahhh si l'ha perchè eh oh e ah eh guarda mi ha ammazzato questo momento viene che tempo di di guardarli in faccia sti poveri nemici questi poveri mica tanto siamo noi quei poveri col contro ahhh ahhh e così è come si gioca a counter strike su console no non è orribile no ma c'erano mesi fa da giocare con un controllo era contestato voi state scherzando c'è veramente cosa incredibile guarda guarda lì la ditta questo mi ha coltellato così ho perso pure una kill magari l'unico controller che è possibile giocare a counter strike ancora ancora è il steam controller ancora ancora quando uscirà è al limite quando uscirà ci avevate detto di giocare con counter strike l'abbiamo fatto adesso non rompete le palle si un'altra kill ho recuperato quella che è vale tedesco di merda mazzista del cazzo com'è torno a mangiare i crab oh no no jobby non è tedesco jobby no no dai lo puoi riuscire a fare un altro punto oltre il 2 ahhh io sono a 5 bravo isac io non perso uno sennò ero a 4 no a 3 però adesso contai aia io mi ho fatto male si ho fatto un altro devo ricaricare ahhh nooo botti di merda che si scompare di fianco a me oh merda ce n'è già uno col coltello te lo puoi ristroffatelo ammanzatelo ristrogete no non posso dire ci sia uno coltello sono 8 qua eh ma non è più 16 sai che hanno cambiato adesso è a metà perchè devi fare 2 kill per ogni arma ahhhh è ronco si ce l'ho fatto sono passato un altro livello al 3 finalmente è che era doppio i drop non è vero allora 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 perchè me lo dici dai dai perchè voglio un altro lake che bisogna essere precisi su lake questo fruisse no vai prima kill bernia l'ho fatta dove hai jobby jobby no non c'è jobby eh porco vabbè se però la gente si mette a camperare da lontano per noi è finita lo sai eh 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 no ti giuro devi vedere come ho mirato uno come io ho fatto lo specchio ah ti ho visto no un è primo ti ho visto morire oddio oddio però se campano là non c'è gusto vabbè entra dentro la casa no la cazzo di mira si che culo vabbè per niente è facile ah c'è uno in acqua un pesce fortale eh si ciao questi mi fan fuori come niente Isa che aiuto aiuto eh eccoti è stato uno dietro ah mi sono vindicato però l'ho ucciso Isa l'ho ucciso tranquillo e non sono neanche l'ultimo in classifica madonna signori eh ciao un palato da un lama ah mi sono il lama poi che che nome ah 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 che sti cazzo di fucili lungo raggio che sparano vergognatevi voi altri da prenderla con quello che contro e basta cosa mi ha ucciso cosa mi ha Isa tu non hai visto la killcam che ho ricevuto cioè altro che quello dell'altro del video di come quella devi dire che cazzo mi ha ucciso qua tipo sembrava un palo un palo si tipo sembrava un lampione poi vedrai il video lo vedrai c'è che quello lì poteva coltellarmi no io so ma come si prende il coltello qua ma in realtà lo so è così guarda lo so fare oddio uccidere con i fucili a pompa qui sarà impossibile vabbè più o meno siamo tutti lì sì un altro ucciso come si aprono le porte come si aprono le porte un quadrato no dove sei dai devo trovarti vedi qua eeeh vaffanculo mi ha ucciso subito dopo ecco oddio oddio contro strengo contro le R10 volte è più divertente no 10 volte è più impossibile sembra di avere una saponetta è impossibile ma è divertente failare no mi hanno ucciso subito dopo joppy ma basta con sto joppy lasciamo un po' in pace no dopo quello che ha fatto la sua apparizione no ho fatto una kill da lontano posso tenermi soddisfatto più o meno perché il nemico era fermo come un padre se no allora si dovrà in giro pieno per la mappa adesso eh mica tanto mi stanno mi stanno facendo il culo nella maniera che tono ah ti ho visto stai andando dentro la casa però adesso c'è l'amore dei tuoi maledizione no l'ho visto Isaac volar via volate giù no via vabbè giù quello che è aiuto aia non riesco a più incontriamoci sotto la casa per un duello all'ultimo salsa aspetta solo un secondo che ho uccito uno dei tuoi che è a bersa ok e ho vinto io ho vinto ho vinto ho vinto io non vado non ero sotto la casa vale me ne vado via adesso sono troppi di si cosa c'hai il fuscino pompa che c'è la canna lunga fino a dove ero io tipo la canna invisibile ya 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 la storia non ho visto uno adesso guarda faccio la tecnica del del pruiz ma no l'hanno ucciso dai oh raffanmaio c'è sempre uno c'è sempre uno a camperare nel garage vostro diamine il garage davvero sei te no io ho un fuscino occhio pruizio occhio eh vabbè grazie mi hai tolto mentalità prima allora devo trovare devo trovare direi un modo per fare un po' più di uccisioni magari se sto abbassato si sta ceppa di minca se lo abbassato è peggio andiamo a trovare siii oddio oddio guarda che arma sono proprio non voglio sapere adesso io l'unica cosa voglio fare è ammazzare qualcuno dei tuoi per arrivare ai fucili da pompa mi basterebbe solo quello sono al negev ok rinculo fatti avanti adesso si che c'è da divertirsi dai vabbè qui tutti con il fucile a pompa no è bello che c'è uno che è uno aia c'è uno a uno ha raggiunto il coltello Isaac eeeh ma che cazzo succede il mio controller mi ha fatto fare una figuraccia di merda davanti a uno era mio eeeh ma è già finita facciamo l'ultima partita dai si sparo e muovono visuale con gli analogici ti giuro vieni da vomitare non è facile eh vabbè io ci provo però questi ci girano mi ammazzano maledizio 59 li ho tolto ti amo sono cattivi con me Isaac ecco ancora di più adesso diavilo è impossibile ucciderli eh infatti ma io ci proverò le ferme si vabbè io ho tipo ho fatto i massaggi i piedi a uno con l'arma che cazzo stiamo parlando in tranquillità dietro quella non hai fatto una kill non vedo nessuna ebbene ce ne ho fatto il 3 4 4 kill eeeh che cazzo uavì ho fatto fare il lancio allora tu Acheri no peggio stavo dicendo anch'io sì certo metti fuori quella dai ma cos'è questo controller ma un attimo la visuale fa brrrr proprio va fuori completamente allo schermo tre tre no 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 senti io ci rinuncio cioè è impossibile è bello che la seconda partita stai facendo straccia anche te boh adesso invece sono tornato a essere incognito è troppo difficile è tornato il nostro fruit esatto è troppo difficile guarda dai però anche te no scoop da quella lotta da quella distanza lì cioè questa è fortuna lo so è stato epito è stato epito oh finalmente no questo cazzo di animus continua a uccidermi mi dà un fastidio sono primo ah no sono primo della mia squadra ok appunto primo primo no però comunque sei secondo incredibile io sto recuperando dai tempo piano arriverò anch'io forse ok ok cioè mi viene da piangere per usare i fucili di pompa io no no sono ultimo no non voglio essere ultimo maledizione dopo devo andare a giocare a battlefield contro il control per la notte con il mouse meno male isaac no no tu sei mio ma dove basta lasciatemi un po' in pace mi usano come i manichini guarda che casino c'è è simpatico è simpatico salutalo dai ho lasciato no c'ha un ciso altro vabbè mi accontento del 12 e con questo noi ci salutiamo questo è schifezza va ha vinto ha vinto il lava ha vinto il lava vaffanculo al lava bene signori io non ne posso più questa è la contestra controller e noi ci sentiamo al prossimo video consigliateci ancora qualche non provatela a casa non provatela a casa non mi raccomando ma guarda guarda sotto si sono solo io nella classifica tipo guarda le ultime posizioni si è bagnato vabbè ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti